Un'indagine svolta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova e dai loro colleghi di Pavia, nei giorni scorsi ha portato in carcere un operaio trentenne, originario della Locride e da qualche tempo domiciliato in Lombardia. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri, all'uomo si contestano reati gravi, prostituzione minorile, tentata violenza sessuale e atti sessuali, appunto con minorenni. Il provvedimento parte da un'indagine condotta dai militari dal giugno del 2018. Coordinati dalla procura del capoluogo, gli investigatori ritengono di aver raccolto dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, a cui si contestano in particolare reati sessuali ai danni di quattro ragazzi, d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, e commessi dal 2013 in poi tra Reggino e Bresciano. Le investigazioni hanno avuto il via dopo una grave aggressione subita dal trentenne a Tarrianova, che risale alla primavera del 2017. I carabinieri hanno anche documentato una tentata violenza sessuale avvenuta a Polistana nel 2016 e non denunciata, quando l'arrestato avrebbe tentato di costringere un quindicenne ad avere un rapporto senza riuscirci per la ferma resistenza della vittima. Le indagini comunque non si fermano qui e sono attualmente in corso accertamenti per verificare se anche altri giovani siano rimasti vittime del trentenne. L'uomo nel frattempo è stato ristretto nella casa circondariale di Pavia, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo nel frattempo è stato ristretto nella casa circondariale di Pavia, L'uomo nel frattempo è stato ristretto nella casa circondariale di Pavia,